Nella chiesa di San Michele Arcangelo di Bottegone, nel comune di Pistoia, un presepe particolare che invoca la pace nei territori martoriati dalla guerra. Quest'anno, il gruppo che fa il presepe ogni anno ha fatto una cosa un po' diversa. Prima di tutto hanno voluto esporre alcuni dei miei presepi personali sui vari altari e poi hanno fatto davanti all'altare principale della chiesa un altro presepe un po' più esteso e costruito proprio da loro. Quello che hanno messo in evidenza proprio alla grotta della Natività sono le due bandiere di Israele e della Palestina perché certamente questa situazione, la situazione attuale, questo dramma che stanno vivendo le due nazioni, in modo particolare a Gaza ora, ha fatto un po' pensare e riflettere. È la terra di Gesù praticamente e quindi ci è sembrato giusto mettere questo simbolo che certamente non ha per noi un valore politico ma semplicemente soltanto un valore religioso. La terra dove è nata Gesù dovrebbe essere la terra della pace da estendere a tutto il mondo. Grazie a tutti.